buongiorno e che schifo sei tu perchè stai venuto con noi? io non c'entro nulla aiutatemi noi siamo persone che camminano verso praga ciao ciao ragazzi ma che schifezza c'hai? una tumora più o meno o a chi? o ai cani questa volta siamo la benda al completo lui è il nostro sassofonista lui è la nostra puttana da tour guarda che schifo devi sapere che io vado sempre in giro senza le mutande anche adesso io ho sempre l'arieggiata ciao uomo bella idea raga qui c'è una testa sanitaria di abdas karim abbas di das kussaba noi siamo belle persone vieni Daniel Tanzer vieni 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 a dire cos'è oggi voi non vedete ma io gli sto toccando il culo in questo momento è il quarto il nostro quarto anniversario il nostro primo concerto quindi oggi è andata ma eh sapete questo si festeggia prendendo il pulma sbagliato allora come trovi questo pulma? lo trovo molto zuccheroso molto zuccheroso? esatto Daniel Tanzer ha scoperto un crimine incredibilmente oggi bravo Daniel Tanzer allora c'era un negro nel bagno e l'hanno arrestato ti hanno toccato la carta d'identità? eh? ti hanno preso la carta d'identità? sì perché sei l'unico tra il gruppo che sei un po' così negri ah è vero sono le quattro di mattina siamo in Germania fermi perché tipo un uomo stava cagando nel momento sbagliato in bagno buongiorno un cazzo siamo a Monaco Monaco di Baviera sono le 6.40 buongiorno no i funghi camminanti di Monaco io ho cagato due volte su allora Monaco è bella finora perché è grigio ci sono i palazzi però il Mac che è chiuso alle 8 del mattino è proprio una merda ma scusa siamo a Monaco dovebbe stare raggiunto i togli chi è lei? stiamo rapinando dalle istagno è la pregola ma un po' mi hai visto? a sinistra a destra se poi ho detto a destra allora raccontaci di questa cosa ma ti devo raccontare tu hai preso pure il medicino e per non amare il sbaglio cioè incredibile siamo tutti contaminati ora no raga io ho detto il pericolo è un posto per più sciolato che va adesso Marco hai i taschi e internearsi se vai da Vatiano secondo me come cazzo sei il Vatiano miau maa vai da Vatiano secondo me ormai ci sono cose oh si guarda un brimbo meh ah si no meh vorrei alzarlo da qui dai vorrei alzarlo ah e mi hanno risfittato il bagno quindi che quello che hai trovato uscirò dentro questo bagno che vuol dire masturbazione anala con le bottiglie si chiama Lemonide più perché è il più che fa la differenza un sorsino marghebretto del mandarino no c'è dentro tipo il cancro e la peste questa è sicuramente questa è di vomit questa è di augmentin mi sto affilando il pollice e alla mia sinistra un medana selvaggio definitivamente questa non è morta Daniel Tanzer è un vero marmellone 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 every day non è vero è marmellone every day every night alle nove e mezza arriverà il nostro pullman e ci porterà a Praga poi da Praga prenderemo un altro pullman che ci porterà a Radek Kralobi signor marco due roll lui è Lorenzo Castiel nuovo non è vero è un po' è un po' ma te che l'altro su sto bozzetto mmm mmm oh ah 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 allora basta non si vede la mano prestata sì ciao mi scusi? ah Radek Radek no ah sì madonna ah ah sculettalo sculettalo bello il dito bello via cipona ah così le è un po' in pratica quest'uomo ferma le merde delle persone con la mano allora dove stiamo andando? truppa a Radek poi altrimenti Margaret abbiamo deciso di lasciarla qui a Radek a Radek a Radek a Radek a Radek a Radek possiamo ispezionare il suo naso contiene una quantità ingente di cacoleva di artico ricordiamo che il gus è un animale di distinzione e che va bene ok perciò quello c'è qualcosa perciò tieni qualcuno te l'ho mandato da 10 giri 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 uo Dave non trovi il pisello? giri 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 tante batteri cazzo e quanti e quanti Dave è sul rosso prova a girare la chiave ok prova a uscire spingi spingi lei deve essere sicuramente rotta non si apriva la porta e non lo trovava non si apriva la porta è una porta un po' rifettata sono rimasto chiuso nel bagno perchè si è rimasto chiuso nel bagno? perchè la porta è di plastica allora la cosa di artista è che un coniglio rosa gli ha regalato un po' l'aluncina forma di cazzo quando avrei voglio fare una foto con lui cazzo per spostare la base ah? bellissimo vedete lui è clevato faccia di merda sì oh mio oh mio oh mio oh mio salve e lui ha cagato due volte perchè ha preso di modi un momento più tardi io ne ho preso due e ho fatto malissimo siamo fermati in una stazione di servizio in mezzo a nulla e c'è una voca che sta cucinando la sua cena non fa bly so che ho termine la piazza di quasi Praga si mi fa lo giusto chi è lei? Che è il suo nome? Do you know when they find that we buy your money? You'll have the worst SILVER 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 Grazie per la visione!